Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Peretola. Il traffico per il momento scorre in maniera regolare sulla restante rete autostradale Toscana e sulla FIPI-Lì. Proprio in FIPI-Lì per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori con possibili disagi tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Infine per quanto riguarda i traghetti la Corsatore Mar delle 8 e 40 da Piombino a Portoferraio via Cavo è stata cancellata per maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!